Ti proteggo io Allo 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 Ti proteggo sono con vk v8s dove non va la chat vocale Ok perfetto scusate Non ci muoio non ci muoio io sto andando alla casa moderna e sono col tizio Scusi ma non venga la casa moderna giochiamo lontani senza spararci no? Eh perché io secondo lei la riconosco Cazzo sono un lico alpino Sono sopra la casa moderna e c'è altra gente Il tizio sta già sparando a caso Si trova bene con lei allora C'è un tizio che sta salendo eh f aiuto Eh f aiuto Non mi voglia Sto scappando Penso che si che Non posso restarla Dov'è che è? Oh f mi stai seguendo un tippo La casa prima della casa moderna Dove c'è il garage della casa moderna Il tipo sta vendendo da me F Sono snappi sono snappi Venga verso la casa con la cuccia Non ce la faccio F mi sto sparando E ho capito lo so quella casa cuccia L'ultima vero? L'ultima in fondo a destra Sì 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 No mi ha morto il compagno Mi ha morto il compagno Mi ha morto il compagno F Ok ok fai fatto un cazzo se muore lui Devi rimanere vivo tu F non ho armi Ops mi hai cascato il medikit per terra Non l'ho visto Oh aspetta che aspetta aspetta Porca miseria un secondo No ma guarda che bel medikit qua aspetta Non mi stare vicino Non mi stare vicino Mi sposto verso Nord est Attenzione Mannaggia è caduto Voglio ributtare il socio Voglio ributtare adesso Attenzione È caduto il medikit è caduto È caduto Porca miseria raga Questo medikit è caduto Mannaggia 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 Attenzione Non muoia eh Non muoia Non muoia Io non ho ancora un'arma F No 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 lì non può giftarmi ovviamente Te ne stai andando? Non ci sono più Oh c'è un tipo aspetta che scappo C'è un tipo c'è un tipo Io non ho visto nessuno No non lo so non lo so ho visto tipo aspetta che scappo spero che non mi spara Stanno sparando al mio socio stanno sparando Oh io me ne vado F No ma io me ne vado proprio stanno sparando al socio a su mori su cacazzi suoi Siamo in dieci Attenzione Oh se mi puscia gente te lo dico eh Sì ovviamente generalizzando Generalizzando certo Lei se ne va via perché non posso non sparare Certo che scappo Vado a prendere il drop No no troppo lontano Mi sparano Cecchini cecchini e da dietro Scappo verso la Coordinate Generalizzamente Nord est 33 Nord est Già vedo dieci video Aspetti non ho capito bene i numeri Generalizzamente Generalizzamente sono nord est 33 Un secondo Lei ancora in casa in casa moderna ipoteticamente No sono casacuccia ipoteticamente Ok perfetto Potrebbe esserci un tipo di da quelle zone Verso l'erbro quindi Un secondo Che mi sembra mi stassero pushando Siamo in otto Siamo in otto Generalizzamente dov'è il mio amico non amico Sinceramente non ne ho più idea Lei rimanga lì a controlla la situazione Io sono all'erbro tra 7 secondi Non so dove sia l'erbro Aspetti che lo cerco Ah ok l'ho visto Lei Perché non è rimasto a parco Ipoteticamente ovviamente Perché così non vengono Oh Mia madre che è che ha cecchino Eh c'è il cecchino C'è il cecchino P90 ok Nice Non può lasciare cadere un P90 Ci sono due persone a parco Verso casa Moderna Verso casa moderna Si Perché farmo così tanto Ok sopra la casa moderna stanno buildando Ipoteticamente Stanno fai tassando Io li li innapperei quasi Vai 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 Io li tengo da sotto da qua Ipoteticamente 20 20 20 Da dove spara lei? Io sto sparando dalla casa in fronte alla moderna In fronte vuol dire quella dall'altro lato 20 ancora Quella dall'altro lato Si 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 Ok ho visto i gol 20 ancora Non è teaming ragazzi lo giuro Continua a fargli 20 continua a fargli Ipoteticamente E' lei quello che sta pushando malissimo Sulla sinistra Si Attenzione vediamo Da un po' fastidio Ti cecchino uno da dietro Attenzione vediamo se si toglie il tricecchino E' lei che sparacchia? Si un po' Siamo in quattro Mi pushano mi pushano vengo verso la casa Essi scendi 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 C'è un tempo che mi sta prendendo eh Fe Fai qualche cosa di serio Scappalo dietro la casa Tu scapparei da davanti C'è un tipo da dietro Mi dovresti vedere che corro verso la casa Lo scanellato 31 bianco morto Uno dalla mia casa Uno dalla mia casa dietro di me Dietro di me Guarda guardami dietro Guardami dietro Lo vedi? Si si Lascia perdere me Non è vicino No 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 c'è 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 Ho un problema con il router Noo anch'io stamattina Ho dovuto fermarmi un secondo Perché era un casino Ragazzi ho un problema con il router No adesso non puoi avere il problema con il router adesso La prego F tenga duro Tenga duro in questo momento F Ragazzi ho un problema serio con il router Io ve lo dico subito Non scenda che io sto arrivando da lei Ammazzi l'ultimo Sono già sceso No se sicuro ha lo spasso Mi cazzo però l'ho ucciso Ce l'ho lo spasso Mi sa Mi sa Mi sa Questo era per Quindi sembra che siamo sparacchiando Oh mi sparacchiano Attenzione Oh 1v1 con effesto attenzione Attenzione Brutto bastardo Attenzione 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 Ok Ah c'è kiri? No Aspetta Se è davvero? E non ce li ho Allora sono confida Andiamo Ragazzi dove cazzo è? No no col cazzo è il fiammetto oscuro se le gilacciate No 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 Vedi la verità se ha cecchino o meno Non ce l'ho Ok non è che mi cecchina vuoi mi cazzo Non ho il cecchino Perfetto Allora posso No perché ho paura di muovermi in giro così Senza vederlo Cazzo vuoi? Attenzione Ok ragazzi Io sto bene così No ragazzi non me lo dite Dai ragazzi non voglio levar la chat Non mi scrivete Dai non devi guardarla Ma non la guarda non la guarda Ma io aspetto non è che ho fredda Gentilmente don moderatore levate il messaggio di quelli che scrive dove sta A me devo guardarla chat Eh no io sto fermo Aspetto che leggo un po' di chat mentre sto fermo Non è che voglio leggere dove sta Non fate 1v2 Scusate Fate la base 1v1 No scusate Scusate non lo so già cosa fa Edito prendemi sparentenza Non fai 90 gradi prendemi sparentenza Sì 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 Voi avete fretta io no Dove Cazzo sei Ma Cazzo sei Ah ho capito dove sei Ti ho visto Ragazzi non mi dovevo Eh lo sapevo che Eh vaffanculo Eh 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 lascia mi curare fermati che d'ammazzo adesso devi smettere di fare il merda culo devi smettere oh chi è questo è fatto ben decidi tutto la culo è per da culo fermati 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 è molto assolutamente no ancora cazzo da ridere di provare da spararmi perché se mi spazio mi incazzo f mi incazzo comunque in mano se mi provi a sparare adesso ff t'ammazzo se mi provi a sparare non lo fare parecchio non si preoccupi però siamo arrivati da sempre ragazzi era epico se non ha finito è bene cazzo va cazzo non mi sembra pacifico il ragazzo avrei gradito avrei gradito è tutto che fa il buco cazzo 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 vedi materiali ammazza mazza 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 complicata situazione complica fermo che vado formare fermo fermo devo formare devo far male fermati 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 mi puoi sparare non mi puoi sparare mi devo curare fermo fermo non lo puoi fare non puoi fare non posso ci vanno non poi non puoi darmi le cose anche da divisa quanto aiuta a pensare le cose scusi 1v1 posso fare che cazzo mi fare tutto timando contro un'antraversario dove sono i cittadini non deve che stare la trappola ragazzi lo trappiamo molto bene il materiale che non ne ho e vaffanculo dove il materiale dove che non stai buttando lazza ma sono che è sei schifo sei schifo applausi stavi veramente sguardo stavi veramente sguardo gg gg